Buonasera a tutti, siamo tornati sul canale Noveletrics Studios, sono ancora messo male, abbiamo cambiato la location, vi invito a iscrivervi subito se non lo avete fatto, lasciate un mi piace se volete a vedere la serie e commentate se avete richieste particolari, teoria da qualche parte, e in questo episodio cosa faremo? Non lo so, benissimo, intanto facciamo partire, nel frattempo, Eccoci qua, intanto stiamo su una montagnetta, stavo mettendo delle scale, perché sto facendo la torre, per adesso ho detto così provvisorio, perché, oh, aspetta un attimo, vi faccio, non ho visto niente, non so niente, e qua da un episodio o l'altro c'è metà roba che ho fatto, si è vero, vado avanti parecchio, vado avanti con un treno, che vuol massatempo, ok, come altezza direi che per adesso come prima potrebbe bastare, a 100 iscritti regaliamo anche un barattolo di pesta, di pesta, vero mai amiche lì, ah, ok, sono appena precipitato giù, morto? No, ho perso solo due cuori, allora, questa è la novità, è la mia nuova spada di diamante, questa qua, che a dire il vero è la prima, ho deciso di nominarla e tenerla in vita, perché è stata la prima spada che ho forgiato, come si chiama? Excalibur, la famosa spada indistruttibile, che bella, poi qui farò una porta, che porta il collega, la torre, porca miseria, le busole, e siccome sta venendo notte vi porto a vedere la, le novità, oh, meno male, non l'ho vista in ultimo, quel sentiero lì l'hai fatto te? Sì, bello, devo anche sistemarlo un po' però, perché non mi piace troppo spigoloso, intanto guardate il muro che figata, lo sto facendo su, a una velocità incredibile, la parola è una porta un po' piccola, sì, infatti quel cavallo ci rimette sempre un cuore, mi ha sbatto la testa quel cavallo, lì lì, cosa è scritto? Biblioteca, qui ho fatto la biblioteca con l'anticamera, per camera, dove? Vabbè, qui c'ho i libri incantati, C'è messo un libro incantato lì? Sì, sono di livello basso, ma mi andavano bene così per provare, qui ci sono i libri, e non ci sono, e qua ci sono le materie prime che devo ancora mettere, devo ancora fare, la carta? Sì, ci sarà la carta e le pelle per fare i libri, qui ci vediamo perché se no arriva i libri, C'è l'arma? Devo ancora sistemare, devo metterla alla pietra, e poi si accede qua sotto, a una pre-camera, un'altra camera dove abbiamo la, 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 la craft box, esatto, e li avveriamo il muro che ho creato, poi, a sguardo basso, saliamo le scale, perché a sguardo basso? Perché è qua, tutto, 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 e qui abbiamo la nostra libreria, pa, 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 devo ancora finire tutto il giro, non mi ricordo di quanto dovevo alzarla, per renderla al massimo, ma è già abbastanza alta, mi pare, è già abbastanza alta, però, come, bello, quindi potrei tenerla anche così, farò uno o due, altre due pide, e poi basta, e poi farò tutte le pareti, tipo farò una, con le librerie là dietro, e arrivate sopra, e sarà una figata, e quindi poi incenterò, però adesso è solo funzionale, sì, poi appena incertato il piccone, la spada, può anche tornare al livello 1, non me ne frega niente, mi farebbero comodi anche i cosi, gli stevani a terraggio morbido, questa è la nostra libreria, ah sì, vi faccio vedere il panorama, che si avviera da qua sopra, guardate che filata, che filata, è bellissimo, è veramente fila, adesso devo chiudere qua, tutta vetratta, farò, e sopra cosa c'è? sopra non c'è niente, c'è la montagna, che ho anche fatto un buco, scoperto là, ma in questo episodio cosa andiamo? in questo episodio, volevo andare, adesso qua ci saranno zombie sicuramente, perché li ho sempre visti, ah sì, nella vecchia casa di là, ci ho rimesso, ci ho rimesso mezza casa, perché mi sono trovato un creeper dentro, che mi è esploso, lì farò un'altra porticina, nascosta? sì, vedi tutte le fornace, per farla, esatto, le roll, il muro, esatto, e là che è il nostro amatissimo cavallo, là c'è un amatissimo scheletro, devo sperare che, mi lasci in faccia, per la notte, sti cazzi, no, fortuna che tenga, una mira proprio da merda, oh, un'arco incendato, un'arco incendato, un'arco incendato, sì, doscheletri, magari te lo dà, no, non mi dà, porca di quella miseria ladra, si, fanculo, aia, è morta, la mia spada, la mia spada, si, è morta, cazzo, adesso hai perso tutte le esperienze, no, tutta la fottutissima esperienza, bastardi di merda, ma no, ma c'è il penderolo, le mie fottutissime, uguale si è dato l'arco incendato, no, non mi ha dato un cazzo, che taccagno, allora, la nostra spada, questa mi serve come, per farmi la carta, quindi andrà a finire là dentro, là c'è un, cos'è? cazzo, ma un pezzo di albero forse, ma che cos'è lì che sta volando? carbone, cos'è? ah, sì, un pezzo di albero, cos'è che l'ho bruciato, però? ah, c'è una foresta, sono parti nascoste, questa, ma io direi che lì non c'è, potrebbe esserci la villa, qua, che villa? la villa, io direi di esplorare qua, terra ne abbiamo, sì, in casa ci barrichiamo dentro, per la notte, guardiamo, guarda a destra, 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 comunque qua sotto, bisogna stare attenti, perché a volte c'è qualche zombie, come qua? eh, sotto gli alberi, ah, giusto, taci, porco, sarebbe comodo avere una visuale dall'alto, dovrebbero dirci nei commenti, se magari l'hanno vista, e noi no, adesso vediamo se riusciamo, andiamo in un punto a bello alto, certo questa è una buona risorsa di legno che è oscuro, sì, esatto, vicino a casa, siamo sulla vetta del mondo, e lì a destra? ahio, ahio, cazzo, oh, qua si vede bene, carbone, carbone, un cazzo, non c'era niente, un minuto di là, là c'è la pianura, oh, c'è la pianura di là, dove? destra, è molto probabile che ci, ah, è quella, quella là che porta a casa, ok, strano che non c'era un villaggio, no, infatti, sto ancora cercando un villaggio, quindi se riusciamo a trovare il villaggio, i villaggeri, sarebbe comodo, cosa c'è dentro di utile? le carote, che devo ancora prendere un parco, come sarebbero i parchi, non ho neanche un po', se ho un oro, ho setta rotto in flash, ma partita è una craft table, ah, lì c'è un'altra pianura, questa però, questa pianura qua, non l'ho mica, non è mia, non è mia sta pianura, non è mia, non è mia, forse abbiamo qualche speranza, forse abbiamo qualche speranza, ci doi, e prima è che ci metto un bel po' a caricare, quindi se c'è un villaggio, ci può che ci finire dentro senza saperla, cosa c'è, è un banco di sabbia, direi che ci rivediamo quando è caricato tutto, dai, un villaggino, anche piccolo, anche piccolo, solo di una casetta, proviamo a salire, proviamo a salire, proviamo a salire, raga, vi prego, datemi qualcosa, qualcosa di buono anche, ma è meglio che ti ritorni a casa, due cazze, adesso, oh, se mi ricordo, oh, guarda, sinistra, sinistra, con lì, oddio, raga, abbiamo trovato il villaggio, che tega, abbiamo trovato, ok, ora dovrò collegare uno dei binari, qua, il problema, che culo che l'ho visto, come cazzo si fa a tornare, il problema in casa, passi una notte lì, cazzo, ce l'ho andata a dormire, sì, eh come, guarda se magari, c'hanno già un live, in quella casa lì, ma come le fanno, oh, mi chiudi fuori, eh, di notte, oh, ma come cazzo, ecco lì, lì dentro, c'hanno già i libri, c'hanno già i libri, raga, hanno anche una crafting table, la linea inculi tutta, ovvio, non tanto mi dispiace, però, guarda, guarda, per 26, uh, lo sa, per un cazzo, secondo voi, si ho, rotto il flash, no, ma c'è la carne marcia, sì, se lo 7, ne vuole altre 30, mi sa che adesso, sono cazzi, sì, beh dai, vai anche per l'altra parte, cioè cambia, scopriamo un po', che se no, oltre al massimo, il più la parte, va quello lì, dove hanno fatto la porta, tocca spaccare quello, ok, ti ha fatto la scuotetta, no, che te caschi, no, caschi, oh, sei fuori, non ce la fai, no, non ce la faccio, neanche con la rincorsa, però potrei fare una roba, andrà, io ho occhio, guarda che rischio, questo, adesso sì, e adesso sì, no, fucco, beh dai, adesso puoi saltare, adesso puoi saltare, ho finalmente l'alba, vedo l'alba, vedo il tramonto, vedo il sole, vedo il salto, altro che parkour ragazzi, ma dietro quella cassetteria, non c'è niente, boh non lo so, quando avrebbe apparecato tutto, dagli foto, no, raga, facciamo parkour, bucchè, parkour estremo, oh cavoli, tu lì cos'è? uno zombie di un villagero, che è stato infettato, cos'è preso? una carossa, ah, sono tutti i villagieri, sono stati infettati, è male, perché dopo, ok, fuori uno, da dove sali? perché ci sono così tanti zombie? aiuto, si, anch'io sono sconvolto, va bene, dove sono? uno, ci vuoi dirvi? c'è tutti i nostri villaghi, miseria tua, l'ho preso fuoco, però ho un po' di esperienza, cazzo, tu li hai qualcosa, tu li hai qualcosa, tu li hai qualcosa, ah, è quello utile, rotto in flash, rotto in flash, ok, vi salutiamo, per questo è tutto, facciamo un saluto elettorizzante a tutti, e il prossimo episodio, forse, il concorso, il prossimo episodio, questo qua l'abbiamo stoppato, si, verrà diviso in due episodi, questo qua, perché è in due parti, perché non abbiamo abbastanza spazio, e saremo già a casa nel prossimo, spero di sì, quindi, speriamo di trovare anche un dojo, e un saluto elettorizzante, ciao!